Andavo a scuola, mi fermo per alcuni minuti, forse pochissimi minuti, due o tre minuti e ripillo la strada, faccio circa 80-90 metri, quando improvvisamente dalla mia destra vedo un aereo che si precipita a 80-100 metri avanti a me. Io dico, fortuna che mi sono fermato a parlare con questo carissimo amico. Se non mi fossi fermato, forse stavo sotto quell'aereo e finivo lì. Distrutto da quell'incendio. Dove andava quell'aereo? Ricordo che poi ho saputo, da quello che dicevano le persone, che quell'aereo aveva fatto già diversi giri intorno perché passava sopra la villa di Conti che stava qui, a questa distanza qui. Quindi, siccome un fratello di questo pilota, c'aveva il fratello che quel giorno dicono che celebrava il matrimonio polacco e lo voleva festeggiare questa festa girando sopra. Ad un certo momento, forse, o perché ha trovato un vuoto d'aria o perché una manovra sbagliata, avanti a me, circa 80-100 metri, esplode proprio questo aereo improvvisamente. Io scappo via naturalmente e torno a casa mezzo sballoggito. Senti, ma la villa dei Conti c'erano i comandi? C'era una centrale dell'esercito polacco, con dei comandanti, perché lì avevano fatto un centro e siccome lì c'era anche la cappellina, i polacchi sono molto religiosi, ci andavano alla messa e quel giorno si celebrava il matrimonio di un fratello. Mi diceva prima, parlando così di questa avventura, di questo che è capitato, che anche a casa tua ci sono stati dei militari? A casa nostra c'erano stati prima i tedeschi che sono venuti e che già nella zona tra noi e Villa Conti avevano costruito già le piazzole che avevano preparato per metterci le basi dei cannoni, insomma, perché volevano sparare oltre il Chiendi, capito? Quindi era una zona alta e quindi era molto facile di poter sparare. Quindi stavano ospiti a casa tua? Stavano ospitati, no, 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 quelli non ospitavano a casa nostra. Dove stavano? Stavano per conto loro. Ah, per conto loro? So che però a casa nostra c'era ospitato il mare Sallo di questi tedeschi, però non è che ci abitavano il mare Sallo perché stavano lì, capito? E quando sono andati via sulla ritirata che hanno fatto? No, sono andati via, hanno portato via carri, vacche, come potevano per poter portare via tutto il materiale loro. A noi ci ha salvato per esempio un maresciallo tedesco che stando lì a casa nostra pericchie volte ci ha difeso da altri tedeschi che venivano specialmente di colore che volevano prendere roba e a volte forse... Tu parli di soldati tedeschi di colore, erano di colore perché... I Copaclay venivano dall'Africa che facevano parte del centro tedesco.